Partire dalla Repubblica Ceca e raggiungere il Circolo Vela Arco dove allenarsi in una delle palestre naturali più performanti per quanto riguarda il mondo della vela, il nostro Lago di Garda. E' questa l'avventura settimanale della famiglia ceca Zivna, che dal venerdì alla domenica sera vi trascorre le proprie giornate per crescere agonisticamente. Due le vere atlete, le figlie Veronica e Caterina, allenate con costanza e determinazione dal padre Boris e coccolate dalla madre Renata. Stazione di Aprodo e il Circolo Vela Arco che le ha accolte e inserite nella propria squadra agonistica. Le Zivna, infatti, da qualche tempo gareggiano con i colori arcensi, contribuendo agli ottimi risultati di tutta la squadra agonistica. Il loro mezzo è della classe 29er e nel corso dei mesi la crescita agonistica delle atlete ceche è stata esponenziale, grazie anche al confronto costante con la formazione arcense guidata dall'allenatore Lorenzo Bianchini. Dietro a tutto la passione per la vela e l'amore dei genitori per le proprie figlie. Gli Zivna, residenti a pochi chilometri da Praga, nella città di Jesenice, dove il padre è primario nel locale centro neurologico, partono tutti i venerdì dopo gli impegni scolastici e lavorativi per giungere sulle acque gardesane. Raggiunto il circolo arcense, Veronica e Caterina armano la propria imbarcazione e con il supporto del padre, che oltre ad essere medico e allenatore sportivo giovanile presso la European Academy of Sailing Youth, iniziano il loro allenamento. Una famiglia unita e pronta a tutti i sacrifici necessari per vivere il loro sogno, spinti dall'amore per lo sport velico che consente di superare ogni ostacolo.